Si scippate, essere in Italia. Era ora, era ora. Era ora, lo benissimo a pagliare. E io la voglio una cosa insieme all'ora. Abbiamo giocato bene tutti e due, ce lo siamo benissimi rischiando quando era il momento di rischiare e chiusi quando non lo era. E questi sono i risultati. Però io l'avevo già detto, che erano le zappa all'italiano. Ciao Fabio! Dai, fa bene. Grazie ragazzi.